Musica Bentornato Goodreader, bentornata Ora sei a buon punto nella conoscenza del tuo desktop Andiamo a vedere le altre funzioni del menu che si genera con il pulsante destro del mouse E' la volta di aggiorna Questa opzione non farà altro che aggiornare la visualizzazione del desktop Cosa significa? Hai mai provato a eseguire delle variazioni, delle impostazioni Ma non vengono immediatamente visualizzate? Beh, se clicchi su questo pulsante non farà altro che aggiornare la visualizzazione della pagina E portare in visione le modifiche che hai precedentemente eseguite Un po' come, se ti è capitato di fare, quello che esegui aggiornando una pagina web Dopo che sono avvenute delle variazioni O con il pulsante relativo O con il tasto F5 della tastiera L'opzione aggiorna esegue la stessa funzione Altra opzione del menu riguarda le proprietà grafiche Questa specifica opzione potresti non trovarla nel tuo PC, nel tuo sistema operativo Perché è soggettiva dell'hardware presente nel tuo computer Infatti è specifica della scheda grafica installata Cliccandoci sopra aprirai il pannello di controllo relativo proprio alla scheda grafica del tuo computer Detto questo, evitiamo la trattazione Sia perché è troppo discriminante da una scheda grafica rispetto all'altra Ma soprattutto perché queste impostazioni le potremo ritrovare poi Nella descrizione del pannello di controllo che descriverò in seguito Subito sotto proprietà grafiche troviamo le opzioni grafiche Anche questa in parte si ricollega alle proprietà grafiche della tua scheda Ma volevo farti notare una particolarità che puoi evidenziare proprio nelle opzioni grafiche di questo menu Che è riferita alla rotazione del monitor Se ti posizioni su opzioni grafiche si apre un nuovo menu, una nuova sezione Tra le quali trovi scritto rotazione Nel menu che si evidenzia trovi 4 possibili scelte Normale, 90 gradi, 180 gradi e 270 gradi A seconda di come scegli, di quale opzione scegli Potrai ottenere una rotazione a passi di 90 gradi della visualizzazione del desktop Hai mai visto dei monitor appesi a pareti o lateralmente o al soffitto? Per poter continuare a effettuare una visione corretta Quindi per il verso corretto Viene sfruttata questa metodologia di visualizzazione Quindi ruotando il desktop Se decidi di provarla però, preparati Perché ti sarà molto difficile Almeno all'inizio Gestire i movimenti del mouse Puoi provarla ma ti verrà da ridere Vista la difficoltà di gestire il movimento del mouse Altra opzione che non è applicabile nella maggior parte dei PC È l'impostazione guidata a TV E quindi passiamo decisamente oltre La parte relativa all'opzione nuovo È stata ben descritta nella lezione 60 Quindi ti stimolo ad andarla a visionare Se ancora non hai preso visione di questa lezione Ora veniamo alla risoluzione dello schermo Una vecchissima pubblicità diceva che Se per una parete grande ci vuole un pennello grande Allora direi che per un monitor grande Ci vuole una risoluzione grande Visti monitor che attualmente Possono essere acquistati Intendo dire per le loro dimensioni Il senso è che devi adattare La risoluzione del monitor Alle tue esigenze Prendendo in considerazione Le caratteristiche hardware del computer In termini di scatagrafica E dimensioni proprio del monitor L'unità di misura della risoluzione del monitor Spero e credo che tu sappia È il pixel E comunque puoi andarla a visionare Nella lezione 18 In pratica la risoluzione si rappresenta Con due numeri Corrispondenti ai pixel orizzontali E al numero di pixel verticali del monitor Brutalmente In maniera molto semplicistica Il monitor visualizza Per mezzo di piccolissime lampadine colorate Che si accendono Si spengono a seconda Dei colori che devono visualizzare L'insieme di queste micro lampadine Appunto i pixel Danno la visualizzazione completa E più è grande il numero di pixel Maggiore sarà la qualità Di ciò che viene rappresentato sul monitor Ad esempio Conosci la qualità di DVD? È bellissimo a vedersi Forse ma qualche anno fa Questo perché La risoluzione di un DVD È pari a un numero di pixel Corrispondenti a 720x576 Ripeto In senso orizzontale e verticale Questa risoluzione produce effetti visivi Molto belli dal punto di vista dell'estetica Per risoluzioni Per monitor che abbiano risoluzioni Molto vicino a questo valore 720x576 Con l'avvento di televisori O monitor A schermo piatto Di varie tecnologie Plasma LCD o LED Dotati normalmente Di dimensioni Molto Grandi La risoluzione di DVD Permane Come qualità Eccellente Rispetto alle videocassette Ma Al contempo Risulta bassa Rispetto alle dimensioni E alla risoluzione Di questi monitor Per farti capire Cosa intendo dire Prendi una foto Di piccolissime dimensioni Diciamo Un formato Tessera Passata Allo scanner E ora Prendi il file Inseriscilo O nel lettore mp4 O nel tuo telefonino O nello smartphone Che eventualmente possiedi Hai naturalmente In visione Una qualità Molto bella Ora Se possiedi Un tablet Un netbook Vedi che la risoluzione Tende a essere Un po' Peggiorata In quanto è sgranata La foto Ampliandola A pieno schermo Infine Guardala Su un monitor O un televisore Di dimensioni molto grandi Diciamo 30, 40 O 50 pollici Vedi Una qualità Decisamente Inguardabile Questo perché Se ad esempio Prendi un monitor Full HD Che attualmente Per Full HD Si rappresentano Dimensioni di pixel Pari a 1920x1080 E Ingrandisci Il video Di un DVD Che è 720x576 A pieno schermo Per ovvie ragioni Noterai Un leggero Degrado Nella qualità Del filmato Che sarà Tanto maggiore Questo degrado Quanto più grande Saranno le dimensioni Del monitor Allora tu che cosa fai? Per riequilibrare La qualità Eccellente Ti compi Un bel lettore Blu-ray Magari Tutto questo discorso Per dirti Che non c'è Un valore standard Che va bene Per tutti i monitor Tutte le schede grafiche Sarai tu a decidere In base alle impostazioni E le potenzialità Del tuo hardware La risoluzione Da adattare Alla visualizzazione Del tuo desktop Andiamo sull'operatività Come fare Per gestire La risoluzione Avvia Il menu Sul desktop E posizionati Sulla Opzione Risoluzione Dello schermo Ti si aprirà Una schermata Più o meno Identica a questa Nella quale Potrai Scegliere La risoluzione Del monitor Cliccando Su questo pulsante Si aprirà Un menu Nella quale Gestirai La risoluzione Del tuo desktop Scegli Il valore Che meglio Credi Per la tua Visualizzazione Varia I parametri Finché Giungi Ad una visualizzazione Che ti soddisfa Una conferma Dopo aver impostato Questa risoluzione Ricordo Ti è sempre richiesta Prima di attuare Le nuove impostazioni Quindi dovrai Cliccare su Ok Ovviamente Più è alto Il valore Che puoi impostare Maggiore sarà La potenziale Qualità Delle immagini Di foto E video Che potrai Visionare Sul tuo schermo Ma Ricordati Tutto dipende Dalla fonte Vedi l'esempio Della fototessera Di cui parlavo Prima Ciò che intendo dire Se la qualità Delle immagini Delle foto De video È già bassa Per natura Non potrai Migliorarne La visione Se la risoluzione Se la risoluzione E risoluzione Hanno dei valori Di risoluzione Relativamente vicini Non noterai molto La differenza Quindi Quanto detto Prima Diciamo Lo tramudiamo In Adatta La fonte E la visualizzazione In termini Di risoluzione Nel caso Il pulsante Invece Impostazioni Avanzate Ti rimanda Alle impostazioni Proprie Della scheda Grafica Che Ripeto Dipenderanno Dall'hardware Installato Quindi Dalla tipologia Della scheda Grafica Che avrai Scelto Di comprare E installare Sul tuo computer Tuttavia Nella schermata Che si presenterà Attua Particolare Attenzione Alla Sezione Monitor Alla linguetta Monitor E vai a selezionare Da questo Menu Corrispondente A Frequenza Di aggiornamento Il valore Più alto Tra quelli Evidenziati Assicurati Che sia Selezionata La spunta Nascondi Modalità Non visualizzabili Con questo Monitor Questo perché Ottimizzerai La visualizzazione Del monitor Per evitare Che si possa Danneggiare Cosa Effetto Alla frequenza Di aggiornamento Non farà Altro che Gestire La velocità Con cui L'illuminazione Dei pixel Del tuo monitor Si Aggiorna Per Mantenere Quanto più In tempo Reale La visualizzazione Di ciò Che elabora La scheda Grafica Altro parametro Che puoi andare A impostare In questa sezione È l'opzione Colori Dal menu Dal menu Che si crea Seleziona Il valore Più alto In termini Di numero Di colori Che può gestire La tua scheda Grafica Più è alto Il numero Migliori Saranno Le sfumature E quindi Dettagli Di ciò Che andrai A visualizzare Eccoci di nuovo Nel desktop Continuiamo A visionare Le opzioni Di personalizzazione Il menu Che si genera Con il pulsante Destro Come abbiamo detto Può essere diverso A secondo Del sistema operativo E della macchina Infatti Noterai Che Da questo computer Dal quale sto Registrando La lezione Non viene evidenziata La sezione Relativa All'opzioni Grafiche Ma comunque Ciò è accessibile Nella zona Del pannello Di controllo L'opzione Che andremo a vedere È Aggiorna Cliccando sopra Hai un Refresh Rubando la parola Dall'inglese Del monitor In modo Da aggiornare Eventuali modifiche Che sono state Eseguite In precedenza Non avendo Eseguito Alcuna modifica Non noterai Alcuna variazione Naturalmente Altra opzione Che puoi andare A Determinare È la risoluzione Dello schermo Quindi gestire La qualità Della Visualizzazione In termini di Risoluzione Proprio dei pixel Cliccando Sopra Questo Pulsante Si aprirà La schermata Di gestione Di varie opzioni La zona Relativa Alla risoluzione Qui evidenzia L'attuale Risoluzione Impostata Per questo Monitor 1280x1024 Che tra l'altro È evidenziato Anche come scelta Consigliata Se clicchi Sul pulsante Alla destra Si apre Il cursore Che ti permette Di variare Le impostazioni Di risoluzione E gestirne La qualità Sostanzialmente Cosa accade Nel momento In cui decidi Di variare Queste impostazioni Supponiamo Di scendere Ad un valore Di 1280x720 Cliccando Su Applica Avrai L'aggiornamento Della Risoluzione Manteniamo Pure Le impostazioni Questo È quello Che vedrai Con questa Nuova risoluzione Torniamo Al Valore Standard Applicando Queste Risoluzioni Mantenendo Le nuove Impostazioni Che poi In realtà Sono i precedenti Valori Avremo La visualizzazione Migliore L'opzione Orientamento Grazie a questo Menu Ti permetterà Di gestire L'alloggiamento Del tuo monitor O su una scrivania O sul soffitto O su una parete Laterale Una volta Che hai scelto Il tipo Di orientamento Sarà sufficiente Cliccare su ok E chiudere Questa schermata Oppure su applica Per apportare Le modifiche Purtroppo Il programma Che utilizzo Per registrare Questa Video lezione Non mi consente Di poterti Mostrare Questa opzione Ma divertiti A provare L'ebbrezza Di non riuscire Ad indirizzare Correttamente Il mouse Dopo aver applicato Tale opzione L'opzione Impostazioni avanzate Ti permette Di gestire Alcune impostazioni Della scheda Grafica Che sarà Diversa In base A quella Che avrai installato Infatti Qui hai In evidenza Una scheda grafica NVIDIA GeForce 9400 Con 1GB Di RAM La sezione Monitor Ti permette Di gestire La frequenza Di aggiornamento Per cui riguarda Le impostazioni Monitor Dal menu Che si crea Seleziona Il valore massimo Per ottimizzarne La visualizzazione Altra opzione È il numero Di colori Che può gestire La tua scheda grafica Qui hai a disposizione Due valori Uno di circa 65.000 E l'altro Relativo a 16 milioni Oltre di colori Naturalmente Scegliamo Il valore Più grande Per ottimizzare Le sfumature Che può gestire La tua scheda grafica Cliccando su Ok Acquisirai Le impostazioni Selezionate Una conferma È ulteriormente Richiesta Per far acquisire I valori Che hai appena Selezionato Nella prossima lezione Terminerai Questa parte Dedicata Ad una prima Conoscenza Del desktop Ora Un forte saluto Ciao a presto Da Gallo E alla prossima Salute by